Sfida difficilissima ma assolutamente accettata, il mio avversario ha Beerus e Jiren, a me ne concede 9, mi dice che mi scassa, stiamo a vedere, tutti il mio team partiamo subito 9 personaggi ragazzi, basta Beerus e pareggiamo Beerus, Wiz meglio, non così, va bene va bene, stiamo calmi, però Kaioshin non può essere battuto se no muore Beerus, e ancora Siamo a 3 perché i doppi non valgono, dai filtro vieni mi incontro, su, dammene, no ancora Krillie, C16, mania Siamo a 4 personaggi, escono doppi e tutti scarsi, dai, ma ancora Pardoc, Pan, ancora 4 personaggi, dai filtro, Beerus l'abbiamo pareggiato, bene, ma ancora 2 personaggi dobbiamo battere Jiren Trunks, Super Saiyan, Rage, Rage, non basta, C18, ragazzi per me, mi sa che l'ho persa, non ho uno più forte di Jiren Beerus contro Beerus, pareggiano e Jiren, fatemi sapere la vostra in commenta